Benvenuti a Loft! Ciao, questo è Loft, è uno spazio dedicato alla fotografia e all'illustrazione e grazie al progetto PIN siamo riusciti ad avere questa opportunità di creare questo spazio che si occupa di formazione, si occupa di editoria e si occupa anche di mostra. Io sono Francesca e in particolare mi occupo della comunicazione, dell'amministrazione e della direzione artistica del progetto. Io sono Alice, è il secondo membro di Loft, anche che io mi occupo di un aspetto della direzione artistica all'interno di Loft e vorrei raccontarvi un po' nello specifico quelli che sono i progetti di cui Loft si occupa. Francesca prima diceva che Loft si occupa di formazione di editoria e mostre, ma in che senso? Partiamo dalla formazione che poi è la parte più grossa di cui si occupa Loft. Abbiamo lanciato quest'anno grazie a PIN un corso annuale di fotografia, di tecnica e cultura fotografica. Abbiamo modo adesso di lanciare un corso biennale molto più avanzato che appunto durerà due anni e prenderà anche tutto l'aspetto del visual design. Loft si occupa anche di mostre, finora ne abbiamo organizzate nel corso dell'anno 3 e ci occupiamo prevalentemente di mostre di fotografia, però abbiamo deciso anche di aprirci a un'altra disciplina che è quella dell'illustrazione, sia tradizionale sia digitale. Per quanto riguarda editoria siamo una libreria specializzata che si occupa principalmente di fotografia, però anche per proseguire appunto il discorso di Alice abbiamo deciso di aprire all'illustrazione. Loft inoltre è anche la caffetteria. Cerchiamo quindi oltre alle mostre appunto a questi talk con editori, fotografi, anche di realizzare delle serate musicali. Progetti per il futuro sicuramente incrementare tutto l'aspetto della formazione. Quindi appunto lanciare questo corso biennale con la speranza di naturalmente di avere sempre più adesioni. Un altro aspetto sicuramente è quello delle mostre. Noi ci muoviamo tanto con giovani autori, però sicuramente non ci dispiacerebbe che un domani potessero venire anche autori più grandi, più conosciuti. E poi sicuramente continuare con le varie attività, quindi con le fiere, con le presentazioni di libri, iniziare anche a spostarsi fuori da Lecce e dalla provincia, portare il nostro operato appunto in fiere, festival o comunque in luoghi che sono interessati a collaborare con noi anche al di fuori di Lecce. Noi speriamo che questo posto possa essere conosciuto da moltissime persone che naturalmente invitiamo a venire, a venire a trovarci, anche solo a fare due chiacchiere e perché no naturalmente a usufruire dei servizi e venire a vedere le mostre perché la fotografia è una cosa importante. Allora vi aspettiamo qui a Lecce, all'Oft, in via Simini 8. Ciao! Ciao!